ben tornati da Christian Teares in Battlefield 4 continueremo adesso la nostra missione nel frattempo non mi sono neanche preso la briga di allenarmi un pochino andremo ancora a culo vediamo un po' cosa riuscirò a fare se riesco a capire almeno come non farmi ammazzare come non finire le munizioni come è successo nella puntata precedente sono ancora primo livello ovviamente questo non è il tipo di gioco che faccio in genere gioco ai giochi sportivi che sia FIFA o PS o altre cose però sta cominciando a piacermi questo gioco vediamo un attimo di andare avanti ok questo possiamo anche toglierlo ho trovato star ma ok non facciamo aspettare la tipina io ancora non ho capito come si usa la mappa imparerò un po' più avanti scoprire non solo vivendo come diceva qualcuno no ops ok come non farsi sentire dal nemico adesso ci vengo a prender calcio in culo allora questo qua cos'era il minimo ops ehm ok r2 non serve una beata mazza questo per cilare questo per andare avanti ma questo per coltellare questo per non fare niente ops cambiato caricatore ho sprecato uno ok fantastico questo per il mio poi con un strato di marcia non ci questa all'io trovi l'area o vado per te allora bisogna tattico individuo automaticamente nemici vicino r2 ecco qua allora utilizziamo r2 le due ciminiere davanti a noi e vedi recl si recl passa questo recl che grazie di nome che è andato recl non è un nome da donna dovresti vedere il punto d'estrazione a sud ovest sud ovest qual è il sud ovest sarà qua sul ovest l'istazione ok però ok io ho visto quindi procedi verso il recupero e dov'è il recupero però allora eccolo l'ho capito allora questo qua è sud almeno quanto dice la mappa sud ovest teoricamente dovrebbe essere qua vabbè bella esperienza eh ragazzi andiamo da qualche parte presumo che sia di qua se no ok ok e c'è le vertigini ah ovest capito mmm che armi ci sono che armi ci sono no provocamente vabbè ci sarà qualcosa per per avere i caricatori o del genere munizioni a parte che non lo so in una guerra c'è ci sono sti scappari qua con le armi ma poco credibile la cosa cantina ci facciamo una cannetta un calcio si scende non c'è una scala o qualcosa cioè mi devo fare per forza male oh e gli altri che mi prendo per il culo oh ok attenzione ai settori occhi sul bersaglio piano ora aggiungi il tetto di terrafattrica ok intanto mi nascondo poi mi viene un po' che cazzo vuole e vabbè ok 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 come si faceva no ok ok ma perca che ho fatto vedere? si faceva selezionare lì no 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 mi stanno massacrando ma eh ho capito ops ma 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 la magliara l'inclinato è fantastico l'inclinato è fantastico si faceva selezionare l'inclinato è fantastico si faceva selezionare l'inclinato no ancora sta bomba ma la magliara si faceva allora così taccio qua uh grande ma gli altri che si stanno facendo le pippe cioè magari a darmi una mano no c'è due le ho fatti fuori eh alzati ma quel cappe lo si fa eh si 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 ok ho fatto anche questo eh adesso che ti ho fatti fuori tutti io taci tua e cammina perché non corre? ok ok eh eh aspettami no che scappi eh scappate via eh no eh no eh ancora vabbè ehm io vado cari colleghi c'è c'è ecco c'è 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 Eh, eh... Sì, ma quel cappolo si fa! Eh, eh, di caliversario c'ho scritto R2, l'ho schiacciato, ma l'abbiamo... Oh! Buon attimo, la vuoi ricaricare! Ok. Mirino laser? Ok, teniamo così. Manteniamo un po' le storie lì. Ok, quali sono i versati? Eh, non ce ne so più, prendete tutti i suoi. Sono pronto! Eh, che certo. La passorella è pronta. Allora, L2, lancia granata. Perché dove lancia la granata? Ho scritto tu dove? Eh, anzi, non è male. Ah, L2 è questo. Ok. Ok, in attesa di versagy. L2, lancia granata! L2, lancia granata! L2, lancia granata! L3, lancia granata! L3, lancia granata! L2, lancia granata! Nè, finti un pedaglio. Modigliam. Immagini! L6, lancia granata! Eh, grazie al mio intervento. Ammazzalo io. Eh ragazzi, ci piace vincere facile. Con la sciuretta. Eh, forza, ma se magari mi dite che riesci... Ok. Oh, venga. Non c'è più trappi, non c'è più. E l'ho scattato. Oh! Ah, ma è uno dei nostri, quello. Ecco perché non riuscirò mai a cercare un line. No. Che caspita sono? Eh, dove sono? No, no, no. Non devi ricaricare, ma, eh, ma... Ma ancora? Ok, dove c'è? Oltre. Oltre. Oh, merda. Eh, vabbè, papacuccio. Se ti becco... Cosa sta? Ma papaculo. Eh, ma se... Oh, coccano. Eh, che cazzo. Eh, ho capito come cazzo si faceva solo. Allora. Eh, no, non era così. No, così non era. Forse era... Triangolo. No. Oh, che fece è che non era? Attiva, disattiva, ingrandimento. Ok. Eh... Se faccio no. Mi sapevo il tuo cuore. Ok, in attesa di bersagli. Cato. Pronto, figlio. Oltre il cortile, attraverso quel coltato di suolo. Recongolo, arriviamo. Pronto. Amato! Pronto all'ingaggio. Pronto per i bersagli. Eh, aspetta. Vedi, non andando. Pronto per i bersagli. Eh, aspetta. Non vi vedi i bersagli. Torno, c'è un po' prezzi. Oh. Ma cazzo, si fa c'era. No! Eh, ho finito il punto. Eh, eh. C'è un po' la cosa che mi spiega come indicare la sci... Eh, non è posto. Saperà R2. Ero straconvinto che era R2. Ok, in attesa di bersagli. Ci sono altre tracce termiche sull'altura più avanti. Contatto! A ore 12! Pronto all'ingaggio. Mi sento i bersagli. Partete! Oddio, cazzo! Ok. Adi, come va. Ok. come si fa adesso al carico per curarsi E' morta. Città, c'è tua. Ehm, non c'è un'imagine. Va, il tutto ancora là la via. C'è un po' a morte. Forza! Fai la sola! Incazziamo? Il condotto è l'unico modo per passare! Ci siamo quasi, occhio! Ah, adesso è tutto buio. Ah, oddio quando è così. Non so come cacchio può essere. Tutti nel condotto! Ci vedo la mazza, ragazzi. Sto via. Gadget, esplosivo. Vabbè. Ok. Figo questa arma! Ok. Ok. Bene. Ehm, no, forse è meglio... Ehm, no, forse è meglio... Ehm, è la miseria! Cosa, siamo al capodanno? Ma, ascolta il dorsi. Opa! Cosa, è un attaccio. Ma che verrà! Ehm, eppure? Purtro, attacchiamo! Ehm, siamo al capolino. Purtro, attacchiamo! Ehm, siamo al capolino! Ehm, un attaccio! Usa la giurazione! Ehm, siamo al capolino! Ehm, tutta chi ci fa! Sì, vabbè, ma queste cazzo di bunde... Ma perché non corre, sto scemo? Dai, scemo di quartiere! Ho capito che io sono rete, però... Ma porca la puzzola! Puoi correre o no, imbranato! Dietri lo sono, abbandonati come triste destino! Ma no, è giusto! Basta! Fate l'amore, non fate la guerra! No! Ma dove devo andare? Ma siete lì, gli stronzi! Mi faccio scoprire, mi faccio... Traditori e ghiacchi... Sparate! Copritemi almeno! Città massa di mondolodi! Sì! Amassi! Ok, qua sono sicuri! Va, così... Ma... Sì! 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 ok è ammazzato fantastico tutte ste armi tutte ste sparatorie non sto a capire niente troppi tasti troppo complicato pre bello e lui utilizza l'esplosivo e ho capito ma dove ho carica esplosiva e basta queste bombe porco cane non è poco da domenico mi si fa questo questa merda è a posto, no mi piace questa ma questa non fa schifo questo è buono scimmigliare l'inforo vedi l'acqua l'acqua ma si vedi Sì, tutto l'incazzo, Rec. Io mi faccio un po' i segni di cazzo miei, oppure vado, eh, sto iniziando a capire un po' le vali. Come c'è, la l'hoviare. Ok, la l'hoviare. Ok, la l'hoviare. ok ah c'è te cammina attenzione non lasciamo reticinare capito la medalla non so' anche come ostiii l'altro camion tutti alti falsa te cammina merda questa cazzo è buona ah ah non mi becchi non mi becchi pa 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 mi chiamavano Gior Giorano po 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 b b c troppo da quello che è una bella bombazza e poi è la fabbrica ragazzi ma voi come, ah, non si può andare ah ah, grazie Io li posso far ammazzare un'altra volta Oddio Mi sono cagata Ok Ok Bella lì ragazzi Quindi so che è finita Gli altri dove sono? Mi hanno abbandonato figli di puzzola Andiamo qua sopra Mi sembra più sicuro ragazzi Mi sembra sicuro il cazzo Prende Ah eccomi qua Il ghiaccio maledetto Ah no c'è di una di nostri Facciamo l'ultima granata della mia vita Ma io che faccio un fulgone Ma cazzo su scena Spendo il camioncino Faccio salire sul camioncino Oh mi taglio la mia Figo Figo Ragazzi Venite Ma cazzo seguite Vabbè come voi siete scappati Mi ne vado anch'io Ma cazzo tutti Vabbè Facciamoci sto giro Spacco tutto Ehm Deve scappare Ok 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 Vabbè molto figo Noi vado Spaccando Tutto Non si capisce bene come si guida Nella realtà non guido così male Quindi ragazzi non vi preoccupate Io adesso vado qua Vi ammazzo tutti i figli di car E scappiamo E volevate Non è che se fuori Guarda che non si fa scena ok scendiamo ragazzi guidare una figata che cazzo è cato che cazzo sono e colpitemi un pochino eh grazie oh ragazzi anche questo secondo episodio diciamo che è finito perchè mezz'ora di di guerra poi sa com'è mi scappa la scemia quindi niente se il video vi è piaciuto lasciate un bel like se avete consigli su come giocare a questo gioco fatemelo sapere a più breve prima possibile perchè qua non è che posso sempre morire volevo esercitarmi un pochino però non volevo andare troppo avanti perchè non c'è un qualcosa di prova provami o robe del genere dovrei andare a cercarmi battlesheed 1 2 3 per poi cercare di capire come funziona il 4 qui adesso sono ancora nel buio io ho paura del buio c'è niente la luce no vabbè c'è niente ok vabbò intanto ho attenzione di di finirla qua vabbè ok niente se avete consigli iscrivetevi pure eh evitualmente iscrivetevi pure al portale al canale scusate e niente ci sentiamo ciao ragazzi alla prossima poi tra l'altro morena accogliamo la cazzo la cazzo la cazzo la Grazie a tutti.